Buongiorno amici miei, io sono Gianluca Ricci e questo è il mio canale di comicità, le barzellette di Gianluchino. Vi voglio ricordare di iscrivervi sempre in più numerosi e di cliccare sulla campanella qua sotto per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle mie storie, sulle mie barzellette. Comunque basta con le chiacchiere e andiamo al soto. Ci stanno due signori che stanno entrambi in viaggio di nozze, quindi si trovano nello stesso albergo e si affacciano entrambi dai rispettivi balconi. Quindi al mattino uno dice all'altro buongiorno, e l'altro buongiorno a lei, e l'altro come va? Ha passata bene la notte? E l'altro sì sì, ho passato veramente un'ottima nottata. Ah, mi fa piacere, allora arrivederci a domani, arrivederci fa l'altro. Il giorno dopo si riaffacciano entrambi al mattino dagli stessi balconi. Allora uno dice all'altro buongiorno, e l'altro buongiorno a lei, come è andata stanotte? Tutto bene? Sua moglie come sta? E l'altro è tutto bene questa notte, mia moglie è di là che fuma, la sua e quest'altro, beh la mia non fuma però è un pochetta rossata.